buongiorno ci proviamo oggi sono un po in ritardo ma ci siamo oggi vi presento la collezione e vediamo di fare questo bene se riusciamo buongiorno buona domenica è già arrivata la notifica di facebook eccomi qua buongiorno qualcuno ha già acquistato mentre pubblicavo eravate attente buongiorno adesso ve la faccio vedere dal vivo e mi sono anche accorta di un refuso sulla copertina abbiamo stampato quella della pre pre ultima prova vabbè le prossime andranno meglio buongiorno eccoci qua buongiorno mattinata impegnativa siamo pieni di scatole per fare i bundle siamo pieni di scatole per fare i bundle adesso in giornata ne verremo forse a capo vediamo buongiorno vi aspetto intanto che prendo il caffè il secondo stanotte il telefono non si è caricato quindi ogni tanto vedrete sbucare questo o il cavo rosso perché è in carica altrimenti non caricano live buongiorno adesso ve la racconto intanto che finite di arrivare faticosa l'uscita di questa collezione speriamo che la prossima sia un po più easy buongiorno buona domenica noi qui siamo in piedi da un po ma ci sta ci hanno portato l'ultimo pack di carte ieri l'hai già presa i legni è brava grazie sulla fiducia così con la picco l'amore anche noi l'aspettavamo da settimane mamma mia io questa l'ho finita prima dello stop di agosto quindi c'è veramente per me un una pianificazione record un anticipo record che difficilmente riuscirò a riavere e intanto è andato tutto storto quindi insomma speriamo almeno che vi piaccia così almeno compensiamo tutti questi imprevisti che neanche avessi pescato il mazzo intero di imprevisti dalle carte del monopoli cioè ormai erica bisogna fare i pad di carte se no domani non abbiamo niente con cui fare gli ordini e prima stavo cercando la seconda scatola degli efemera adesso dopo che finisco il live il compito sarà trovare la seconda scatola dell'efemera l'altra quando arriverà taglia non mi pronuncio più mi piacerebbe che uscisse intorno al 20 22 una cosa del genere poco a ridosso del dell'inizio dello smistamento dei kit insomma vediamo adesso domani premerò perché mi facciano le prove di stampa delle carte dei due mesi che sono tutte pronte sono proprio solo da da vedere se la cromia va bene e poi devono stamparmi l'altra diventerò tutta bianca tutto dunque buongiorno allora beviamo questo caffè la prima collezione di natale che compri ah quindi è resistito ancora tutte quelle che sono uscite verso luglio luglio agosto brava influenza mamma mia ma sai che ieri ero storditella anch'io mi sembrava di avere un po di febbre in realtà il termometro diceva 34 e 4 quindi ritengo che di febbre non si possa parlare però la sensazione era proprio quella di ossa tutte rotte insomma così Nadia l'hai presa e allora devo e allora devo devo fermare il tuo pacco perché Sara ci ha chiesto di spedire il tappetino senza paura va usato al posto di uno dei piatti di plexiglass allora lo usate insieme al tappetino magnetico che c'è perché abbia lo spessore e sufficienza per per ottenere un buon taglio se guardate il video di presentazione della collezione di Halloween vi faccio vedere tutti i vari tipi di sandwich che si possono fare poi per esempio Tania mi dice che lei lo usa senza il tappetino di plexiglass e funziona benissimo probabilmente dipende dal grado di cilindratura della vostra big la mia lo era particolarmente ma anche quella del produttore che quando poi ha riprovato i tappetini effettivamente non non bastava lo spessore del tappetino stesso che a parte lo spessore è morbido e quindi ovviamente passando attraverso i rulli della big si comprime e se non c'è sufficiente rigidità e sufficiente spessore non consente un buon taglio insieme al tappetino magnetico da me taglia perfettamente il vantaggio del tappetino senza paura è che non vi si segnano i piatti una volta che hai segni scaldandolo un pochino con l'embosser questi segni spariscono ma a parte il discorso meramente estetico e vagamente ossessivo compulsivo del rovinamento dei piatti la cosa importante è che se dovete fare una serie di fustellate per eventi partecipazioni o cosa è possibile che le righe le striature di rovinatura che ci sono sul piatto si trasferiscano sulla carta ed è un po brutto da vedere salvo che voi non vogliate avere un effetto molto grunge molto grunge e quindi in realtà il tappetino vi salva da quello sì sul sito se vedete sul bottone sul menu in alto c'è una sezione che si chiama in esclusiva il tappetino si imbarca dovrebbe imbarcarsi meno del tappetino allora i tappetini in plexiglass si imbarcano sì tanto con la big shot elettrica un po meno con la big shot plus diventano dei raccoglitori per l'acqua piovana è proprio nella natura del tappetino purtroppo non ci possiamo fare niente il tappetino in in questo rigenerante dovrebbe imbarcarsi quasi nulla in realtà a ok va bene ok tanto poi la prossima settimana ci sono i kit allora cioè la prossima settimana vuol dire adesso questo qui dal 15 16 in poi allora dunque la collezione la collezione si chiama il natale chiamo di più sopra o sotto devi usarlo per devi devi usarlo con le lame della fustella rivolte verso il tappetino perché tu lo metta sotto lo metta sopra non ha importanza dipende anche un po da che tipo di sandwich tu faccia andate a vedere la collezione della collezione di Halloween perché l'abbiamo presentato lì io per esempio che ho la precision plate sotto e il piatto magnetico se lo metto sopra il risultato è che comunque un po il tappetino magnetico si sformi quindi probabilmente converrebbe fare un giro si imbarca parecchio potrebbe essere che ci sia un po troppo spessore se si imbarca parecchio ma comunque un po di imbarcatura ragazze nei tappetini dobbiamo assolutamente prenderla per buona potete per la differenza che nel tappetino rigenerante lo potete scaldare un pochino con l'embosser ci mettete sopra un piano un peso e dovrebbe essere più facile riportarlo alla forma normale c'è chi in realtà mette in forno i piatti in plexiglass della big io non l'ho mai fatto però dicono che ci sia un verso di raddrizzarle un pochino io non l'ho mai fatto devo dire che da quando che da quando ho la big shot elettrica i piatti non si imbarcano quasi per niente perché la pressione che viene fatta è quasi la stessa poi ci penso da sola a vari posti in cui si sconsiglia il tappetino rigenerante non credo che ci siano come dire problemi rispetto alla big shot plus questo assolutamente no con la big shot plus e la quella ancora più grande che adesso mi sfugge il nome sconsigliano di solito la precision plate il piatto magnetico che io abbia che io abbia visto in genere li consigliano solo sulla 5 non so dirvi perché non li ho mai provati mi sono sempre un po tenuta quelle che sono state le istruzioni insomma delle case delle case produttrici però ma se tu usi il tappetino questo rigenerante sopra usando il piatto piccolo non c'è nessun problema no la big shot nuova no è prevista a fine gennaio se non cambia nulla io ho sempre le mie li prenotate insomma boh vediamo li tengo in tensione dentro la big e li giro li dai da 5 anni davvero no a me duravano molto meno devo dirvi molto 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 meno il platico vedi il piatto magnetico va benissimo nei nei post ufficiali la sconsigliano io devo dire la verità sono un po fifona da quel punto di vista di perché ci penso già da sola senza forzare troppo a rovinarli usandoli come dovrebbero essere usati quindi faccio fatica a pensare di di forzarle ancora però sicuramente il piatto rigenerante non può danneggiare in nessun modo la macchina sulla precision plate e la e il piatto magnetico ci sono come dire pareri contrastanti molte di voi dicono che lo usano lo stesso il piatto magnetico con la plus io non l'ho mai provato per esempio la casa produttrice lo sconsiglia però questa sì 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 ci sarà ci sarà assolutamente questa di questa non ne abbiamo fatto fare tantissimissime però possiamo far ristampare le carte sperando che insomma vada un po meglio allora dunque vi confesso subito il refuso che ho visto nella copertina che era la prova prima di quella definitiva perché c'è scritto che sono monofaciali ma le carte basiche la nuova big shot è prevista e quindi non è detto che arrivi è vi dico quello che è prevista a fine gennaio tutte e due sia quella bianca che quella nera sul pad di basic c'è scritto monofaciali ma in realtà queste carte sono state stampate in bifaciali adesso ve le faccio vedere questa era la la prova prima della definitiva adesso poi le prossime saranno 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 fatte ad hoc ma allora credo che i tappetini rigeneranti si possono serenamente usare ragazze se andate a vedere ci sono i tappetini rigeneranti che io senza paura esiste anche di altri marchi ovviamente no dove monto una stella di tommaso quando imparo simona volentieri lo faccio dicevo ci sono tappetini rigeneranti di questo tipo anche di altri brand e se guardate per esempio scrub.com ha il magic mat e ce l'ha di tutte le dimensioni quindi in realtà ritengo che non ci sia nessuna difficoltà di utilizzo con i vari formati della big ecco allora dunque collezione di natale che è di natale non troppo classica diciamo che è un po l'effetto quello che volevo era che sapesse un po di casa no il natale che amo di più per me è starmene sul divano tutto il giorno a guardare la tv con i miei gatti e mangiare un sacco di schifezze ci sono assolutamente ben rappresentate qui il materiale se guardi sul maria rita se guardi sul sito nelle domande frequenti trovi il link a un prodotto che ho fatto che ho creato un prodotto contenitore dove sono linkati materiali che secondo me vale la pena di considerare per l'acquisto quando si inizia perché è difficile darvi un'idea di quello che vi serve per iniziare a parte il ci serve tutto però ci sono taglierina a forbici righello colle spessorato insomma date un'occhiata col prodotto avevo collettato lì tutta una serie di cose di spunti di suggerimenti che potevano essere utili per iniziare allora questa è la collezione sono 12 carte 12x12 monofacciali vicino allora adesso vi faccio vedere il pad di carte 12x12 questo è il mio oprazzolo perché anche oggi ho mal di testa quindi allora sarei quasi tentata di provare ad alzare il mio accrocchio ma tanto so che poi verrei punita dal dal fato e non lo faccio perdonatemi allora carta numero uno sono colori che io amo tantissimo è una palette di colori che amo tantissimo sono stata molto in difficoltà vi dico la verità nel nello scegliere la palette di colori per le paillettes perché la tentazione era di metterci tutti i colori ma poi sarebbe stato una confezione di paillettes arlecchino e quindi ho scelto di stare sui toni neutri questa qui è la mia una delle mie preferite in assoluto e quindi ho scelto di rimanere su una palette di colori piuttosto neutra allora qui ci sono tutte le frasette in italiano questa è tutta in italiano nottetempo e questa anche mi piaceva tantissimo tant'è che ci ho fatto anche il wash che adesso poi apriamo e c'è anche una carta da rivestimento fatta così adesso poi vi faccio vedere tutto questa carta qua a me piace tantissimo se i bando allora si dei di bando ne ho caricati un centinaio a sistema ma se anche dovessero finire li potete comunque prenotare ci va solo il tempo di assemblarlo insomma 15 domani credo che finiremo gli ordini che arrivano oggi e poi riassembliamo il bando se dovessero finire ma non vi preoccupate questione di un paio di giorni di attesa non è questione di non è questione di tanto solo che dovevo scegliere un numero da inserire sul sito per poter gestire il download dello scarico dell'eggecenza magazzino e quindi ho scelto 100 e va bene così questa può essere da ritagliare o può essere usata così può essere usata come pannellino nella carta da rivestimento secondo me perfetta come carta regalo il link per il prodotto allora se qualcuno ha voglia di andare un attimo nelle nelle fac trovate il link che si chiama proprio se non sbaglio da cosa iniziare adesso non ricordo più ma se no ve lo recupero dopo il problema è che probabilmente me lo dimentico dopo ma cerco di cerco di annotarmelo da qualche parte allora questa è una delle mie preferite quante collezioni tre li via quella la mia ricetta che è già uscita questa qui è quella che sarà collegata ai kit dei might well tales di dicembre quella collezione legata ai kit di dicembre avrà 12 carte più le tre che sono nel nel kit adesso deciderò se metterle nel pack o lasciarle fuori il fatto sta che distribuiremo i kit e chi ha il kit ha le tre carte tra virgolette in esclusiva nel pack e poi c'è il pack con le 12 carte volevo che le carte dei kit fossero comunque diverse saranno tutte comprabili normalmente quindi in realtà è un pad che ha 18 carte avrà 18 carte avrà le carte da rivestimento vello macetato avrà il chipboard di efemera i buttons un altro abbellimento nuovo le paillette il washi la fustella il timbro che mi piacciono tantissimo con le casette insomma è un pochino più ricca di questa ma di un paio di elementi non tanto giriamo questa è proprio la mia idea della comoditudine del natale mi piace tantissimo abbiamo le tesserine anche qui per questo ho scelto tutto il nata tutto in italiano sulla prossima c'è qualcosina in inglese ho cercato di mettere tutto in italiano mi sembrava una cosa carina farne una tutta tutta in italiano in uno stile che solitamente è molto americano questo quindi è stata breve la messa a simona sei rientrata perché ti ho aspettata un pochino ma questo foglio è diviso in due fasce da 15 per 30 il caminetto si ecco qua poi c'è questo pattern con gli alberelli e le lucine anche questo mi piace tantissimo vabbè mi piace tutto altrimenti non le avrei composte così le carte caminetto calzini altra tesserina eccola qua questi sono bannerini vedete sono invece di fare le solite tag stavolta ho fatto dei bannerini che volendo si può fare il forellino comunque lì in alto l'incanto delle mille luci di natale oh grazie giorgia brava grazie ed è subito inverno tisana e pasticcino e queste sono le carte le carte patterned che trovate nel pack e trovate anche sfuse si 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 ci sono brava sabrina ci stavo arrivando ci sono ovviamente anche sfuse anche sfuse ci sono sia il pack che che le carte aspettate che ripiglio un sacchetto dove intanto posso occupare quel posto lì ok che madre sta confezionando guarda ti chiedo solo se mi sposti questa il più lontano possibile perché mi vedo già a rovesciarla dappertutto allora le carte che sono in fingarde dicono monofacciali perché abbiamo sbagliato la copertina da mandare in stampa sono bifacciali un quaderno allora il nero di tommaso con il merry christmas è comunque perfetto anche il verdino e chissà se ho qui più o meno ci potrebbe stare nel calendario dell'avvento quale pagina richiama non mi ricordo in che data sia e adesso sono tutti confezionati non me lo ricordo in che data è ma mi sembra il 14 una cosa del genere io non compro le altre carte di natale Nadia se no guardate tagliando la testa al toro un bello che è abbastanza simile come come tono a questa carta basic potrebbe andare bene il neve ha un blu diverso che non c'è in questa collezione ma volendo si rivestono se no ragazze prendete il craft e siamo tutti belli che a posto allora carte bifacciali era tanto che non ne facevo più bifacciali perché sono un po' più difficoltose da stampare per il tipo di stampa che facciamo noi essendo piccolini non facendo 10.000 pack di carte diventa un po' più complicato sono più costose delle altre quindi generalmente ho sempre scelto di mantenerle ma no va benissimo anche quello della simple stories assolutamente mi sono persa ho sempre deciso di mantenere le carte monofaciali anche per una questione di costi questa carta è molto spessa è un 250 grammi è un 260 scusatemi è molto più spessa delle carte patterned che generalmente troviamo in commercio ed è martellata e ovviamente questo crea diverse difficoltà nella stampa che a noi comunque piace così ma il bifacciale ovviamente richiede un lavoro maggiore un tempo maggiore un uso di materiali maggiore quindi le carte bifaciali ne farò molto poche queste ci tenevo molto a farle perché mi piace perché per come mi è venuto mi piaceva tantissimo il pattern che ha da un lato e sul retro trovate qui sotto c'è la reghina bianca perché siamo al vivo e dietro c'è la cimosa quindi è nel pezzo che tagliereste dietro c'è il colore pieno e davanti c'è questo motivo di cui mi sono follemente innamorata no no mamma no 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 ti manca una carta allora dammelo qua aspettate che facciamo uno spostamento che se no non trovo più niente allora puoi ancora prendere il calendario dell'evento? sì ci sarà solo magari qualche giorno da aspettare perché credo che quelli che ma forse ne ho qualcuno in più in realtà ma tanto li faccio ristampare non vi preoccupate quindi è solo questione di attendere qualche giorno ma abbiamo tutto il tempo non vi preoccupate quindi pattern a scacchi così mi piace tantissimo adesso questo l'ho un po' maltrattato ma sono io che lo sto maltrattando e dietro colore pieno strano vero? questo è il foglio numero due si possono mantenere come continuativo? sì queste sì purtroppo il prezzo mi rendo conto che non sia per nulla competitivo però uno decide di usarle per progetti dedicati ovviamente perché guardate questa è forse my favorite non lo so mi piacciono tutte mi piacciono veramente tutte verde verde la brava piemontese sono veramente belle violetto questo arancio che è un arancio tipo un po' il crackling campfire se avete presente l'oxide di Tmolz che è un è strano che io abbia scelto un play vero? assolutamente è bizzarro e vabbè volevo sorprendervi stavolta la prevedibilità è un rosso che vira verso i toni dell'arancio e mi piace tantissimo voilà questo è invece un giallo senape caldo e questi sono i miei colori basic che nonostante questo dica che sono monofaciali perché abbiamo non ho cuore di dirglielo che mi hanno stampato la copertina sbagliata ma non importa quindi questi sono i miei sette colori perché sette? perché non sapevo scegliere perché mi sembrava che mi servissero tutti e quindi sono diventati sette sì 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 anche le bifaciali le trovate anche singole già in vendita in vendita sul sito il pack che le contiene tutti è un pochino scontato purtroppo il prezzo di base non è particolarmente conveniente non è particolarmente basso e quindi ovviamente lo sconto non è tantissimo però lo trovate sia sia sfuse che in pack e queste sono le e ci sono le carte da rivestimento Rossella poi potevano fare le carte da rivestimento ma secondo te sono sette perché la sintesi non mi appartiene le spighette questa secondo me come carta da pacco se dobbiamo avvolgere un libro una cornice una scatolina è stupenda poi ho fatto questa con tanti 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 pacchetti regalo mi piaceva tantissimo no no dovete tagliarle queste carte vi prego questa qui che vi dicevo essere appunto che non mi è piaciuta per niente adesso ve le faccio rivedere dopo questa che è dovuta diventare anch'essa una carta da rivestimento e vi prego di annotare che ne ho scelta solo una perché altrimenti le avremmo fatte tutte e non va bene questa qui che ho con 3R e la mettiamo così le lucine che mi piacevano tantissimo i calzini e poi questo che è uno dei colori della collezione su cui ho inserito un motivo diverso per farla staccare un pochino e questa in realtà può essere usata poi è un violetto un lilla scuro un lilla polveroso quindi in realtà può essere usata un po' con tutto non ha nessun tipo di riferimento al Natale però mi piaceva tantissimo e comunque è un pattern ma non è un plaid insomma ci piace lo stesso e via e queste sono le carte da rivestimento adesso vi faccio vedere le carte speciali allora aspettate che prendiamo una carta bianca che è così allora questo è il vellum le spighette bello poi ho due acetati uno manco a dirlo è un beggiolino che si vede molto poco col verdino che mi sembrava essere visto che comunque è una collezione natalizia mi sembrava carino inserirlo farlo verde l'acetato perché così aveva un senso purtroppo gli acetati stanno diventando a difficili da trovare b sempre più costosi quindi mi sto limitando e poi c'è questo acetato qui che ha un motivo diverso eccolo qua no così eccolo qua si è tutto sul sito si si sempre sui toni del verde perché mi sembrava più carino visto e considerato che parliamo del Natale questo è il foglio di sticker il foglio di sticker un pochino più grande del 30x30 solo un vellum si sono stata parca questo è il foglio di sticker con le decorazioni le frasette anche queste tutte in italiano con i font che riprendono ovviamente quelli che ci sono come quello dell'altra collezione sicuramente faremo diversi progetti non ho pianificato ancora nulla in realtà è arrivato tutto molto molto tardi quindi qualsiasi progetto se io avessi fatto lo accartocciamo adesso comunque ci lavoriamo bannerini clip tutta una serie di oh mamma come si chiama alloro non è alloro questo comunque e i tab oddio come si chiama vi prego aiutatemi adesso non dormirò più fin tanto che non mi viene il nome di questa piantina no come si chiama questo coso qua agrifoglio oh mamma mia santissima che fatica diventare vecchi ok allora agrifoglio grazie poi abbiamo ah sai che no qua abbiamo gli enamel dots sei colori abbiamo i puffy stickers vedete qui abbiamo tutte le tutte le stelle di natale con l'agrifoglio e le lucine e poi tutta una serie di elementi decorativi le stelline la fustella della volpina iniziamo a smistare la prossima settimana insieme ai kit calzette gatto natale le mensoline mi piacevano tantissimo qua poi abbiamo i chipboard il quadretto anche qui la mensolina il pungidito il pungidito è bellissimo non so se sia stato il corruttore questi sono i chipboard questi sono i button stickers che vi avevo già fatto vedere adesso guardate che vi riapro che così si vedono un pochino meglio voilà qui c'è il plaid ovviamente con la resina collata sopra in video si vede molto poco ma in realtà c'è ve lo giuro sono bellissimi vedete sono molto molto belli poi abbiamo adesso i day cut ve li apro poi ve li faccio vedere tutti ci sono le paillettes e ho scelto di rimanere sui toni neutri per le paillettes perché se avessi cominciato a mettere l'arancio e il verde sarebbe stato un po' troppo confusionario non escluso che se avessi un pochino di tempo mi piacerebbe fare il set di paillettes di quelle che con le scatoline che si avvitano una sotto l'altra con qualche colore aggiuntivo vediamo che io riesca a ricavarmi il tempo mi scappa molto da ridere però vabbè eccole qua ci sono dentro anche i jewels mi sembra di averli messi sì 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 eccoli qua ok poi i washi adesso li apriamo ovviamente la prevedibilità vabbè mi piacciono cioè d'altro canto da me cosa potete aspettarvi un play da collezione mi sa quello bianco il vischio e quello rosso l'agrifoglio i bottoni mancavano Mariella facendo un inventario mi ha detto ma perché tu questi due abbellimenti non li fa e l'altro arriva con la prossima collezione ho detto ma in effetti perché non li faccio mi sembrava già di fare delle collezioni abbastanza ricche in termini di abbellimenti ma aggiungiamo aspettate che togliamo così allora il gatto che si stira sì i die cut adesso poi ve li conto allora questi sono i tre washi che adesso ne tiriamo giù un pezzettino ne mettiamo un pezzettino qui così ve li faccio vedere si da uno a sette è un attimo allora questo sta bene sempre con tutto ci mettete un fiocchettino e diventa una chiusura per un pacchetto regalo fantastica allora e mi è caduto di nuovo questo qui è in fuga cerca washi foto scritto col ph e ti viene fuori il washi con le macchine fotografiche se riesco ad aprirlo questo qua ve lo faccio vedere questo ha le ghirlandine appese ecco i calzini faccio finta di volerlo mettere dritto aspettate così e poi questo che questo mi piaceva proprio tanto trovo il bandolino qua così e queste sono le cornici che ci sono nelle due carte lo smalto è grigio 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 colori scuri va sempre bene questi qui sono i tre uoscini ok avevo un po' paura di lasciare lo sfondo chiaro beggiolino perché poi a seconda di come lo lavorano viene un po' un colore ma direi che va bene ecco qua e adesso apriamo il wash adesso prendo un ciotolino cioè scusate i day cut e ve li faccio vedere e dovrei avervi fatto vedere tutto dunque dunque non li conto l'altra avevo fatto vedere un'anteprima ad agosto forse si ad agosto se cercate un vecchio post su instagram di agosto ci sono ci sono tutte quante stelline ce ne sono ce ne sono tanti non li sto contando quindi ci sono le palline di natale cuscino il tappeto ci sono un po' di queste cornici il caminetto la poltrona cuscini questa mi piace tantissimo di è caduta un'altra lampadina si questa è la collezione di natale che aspettavamo da un po' questa è il natale che amo di più un caldo braccio bella calzette ce ne sono diverse anche dolcini ah io non li sto contando c'è lui no esatto io non so contare non sono attendibile da questo punto di vista voilà ce ne sono diverse di day cut ne abbiamo 20 20 stellina e poi c'è questa qui che è ancora qui dentro allora così non li ho contati non li so contare e quando ci provo quando li preparo in grafica alla fine mi perdo sempre perché li prepariamo su un foglio ovviamente tutti insieme mi perdo sempre se sei convincente sì allora questo lo possiamo riposare qui qui oppla anche la cessione del cui vi ho perso ormai awashi copertina allora 52 sì più o meno siamo sempre intorno al 48 poi dipende dalla grandezza di alcuni insomma allora c'era una stellina sul foglio dei washi che adesso avrò fatto volare ah è qui sì grazie voilà presa presa grazie vuoi mai che poi mi manca per finire il progetto comunque due bustine di day cut e siamo tutti a posto allora rifaccio vedere le carte dunque ripeto allora questa collezione è già tutto online ho predisposto un centinaio di bundle sul sito se dovessero finire quando finiranno speriamo insomma che finiscano se non me ne accorgo subito li troverete come ordinabili la scritta di default vi dice che ci vanno 10-15 giorni ma sappiate che per i bundle in realtà è solo questione di avere il tempo di assemblarli quindi uno o due giorni il tempo di arrivarci e di e di assemblarli abbiamo tutto in casa gli abbellimenti siamo sereni che ci bastino per tutta la stagione le carte le carte dovrebbe essere un po' più semplice farle ristampare uso il condizionale e allora abbiamo un pack di carte 12x12 monofacciali un pack di carte bifacciali nonostante ciò che c'è scritto sulla copertina perché è un refuso da 7 carte bifacciali con una parte in tinta unita piena e una parte con il motivo del plaid abbiamo il foglio di sticker due acetati un vellum i chipboard i die cut abbiamo gli enamel dot i buttons tre washi le paillettes sette carte da rivestimento chissà se ciò dovrei aver detto tutto chi lo sa allora vi faccio rivedere le carte partiamo dalle patterned allora è una collezione natalizia un po' meno classica del solito diciamo che la prossima home for the holidays sarà un po' più classica anche se abbiamo punta tutto sui colori del blu molto molto bello molto acceso e rosso però è sicuramente un pochino più classica di questa 52 front e retro è solo per le basics sì il front e retro lo dicevo prima è un formato che no a Francoforte porto me stessa poi alla tratta tu vieni alla fiera ci possiamo incontrare non so quanto sia comodo per te dall'house però magari visto che è una grande 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 fiera ed è aperta al pubblico i fogli ci sono tutti anche singolarmente a Francoforte vado a fare la visitatrice e la cliente dei brand che esporranno alla fiera arriverò il sabato e riparto il martedì sera me la prendo un po' più con calma dato che non arriverò dalla non arriverò dalla fiera di Phoenix quest'anno e non farò in dieci giorni due fiere internazionali in due continenti diversi quindi me la prendo un pochino più con calma e poi se tutto va bene insomma andrò ad Orlando ad aprile povera ma felice senza averla neanche vista allora dicevo il discorso delle front e retro è un prodotto che avevo fatto un'altra volta sola che avevamo messo super scontate a suo tempo però purtroppo il discorso del front e retro per il tipo di stampa che facciamo noi che non è una stampa in cui facciamo uscire 10.000 pecc alla volta e quindi ovviamente ha dei costi diversi ha dei costi un po' più alti ma d'altro canto 10.000 pecc non saprei neanche dove mettermeli e quindi è un prodotto più costoso che tendo di solito a scartare quando scelgo che cosa inserire all'interno delle varie collezioni perché mi sembra un po' troppo questa volta ho deciso di provarlo c'è il pack per chi le vuole tutte ci sono le carte singole per chi vuole la carta singola e tendenzialmente continueremo se vi piacciono continueremo ad averle non ci sono i timbri per questa collezione le ho fatti per quella dopo mi sembrava di caricare tutto troppo Isabella ci penso al budget che è quello delle persone normali no? del mio vostro dicevo il doppio passaggio di stampa su una carta di questo tipo è particolarmente costoso quindi sono sempre molto frenata quando si tratta di fare un double fast in questo caso mi piaceva talmente tanto l'idea di fare questo tipo di double fast che ci ho provato lo stesso è lontano che io geograficamente sono una capra quindi non sapevo bene Francoforte quest'anno sicuramente sarà da vivere in sicurezza come tutto però sarà strano perché è iniziato tutto lì due anni fa io ero lì due anni fa quando iniziavano i controlli massicci in realtà nel padiglione orientale e quant'altro e poi da lì è iniziato la pandemia le mascherine i lockdown quindi mi sembrerà un po' di chiudere un cerchio per certi versi no? sarà strano vediamo ho prenotato l'albergo praticamente dentro la fiera per essere comoda visto che sono da sola quando la presento Simona che domanda interessante vorrei presentarla più o meno in concomitanza con lo smistamento dei kit vale a dire che i kit inizieremo se tutto va bene a smistarli intorno al 15-16 di questo mese quindi come sempre solo che le smisteremo tutte e due e la collezione spero che sia pronta in uno o due giorni dopo la collezione chissà se ho qui i die cut da farvi vedere per darvi un'idea e poi vi faccio rivedere le carte ce li avevo ah perché li ho messi qui dietro secondo me aspettate no ma ce li ho qui e ve li faccio vedere datemi solo scusatemi solo capire dove ce li ho qua no questo è home for the eccolo qua home for the holidays questi qui sono i die cut della collezione che sarà la terza e ultima collezione natalizia di quest'anno e che sarà che nasce da una costola che nasce da una costola dei May 12 Days di dicembre avevo creato le grafiche per dicembre con queste grafiche e ne ho tirato poi fuori una collezione intera e questo è il mood dei colori come vedete è molto più classico anche se ho scelto comunque di non di non andare sul verde e rosso normale classico classico per nessuna delle tre collezioni di quest'anno mi piace tantissimo anche questa per questo avremo il timbri delle casette che adesso non ho qui timbri delle casette la fostella delle casette che mi piace veramente tanto non mi chiedete di scegliere sono tutte figlie mie queste collezioni quindi allora vi faccio rivedere velocemente le carte e dopodiché oggi interrompo un po' più velocemente il live perché devo andare a cercare la scatola di dei cat che non troviamo in modo che madre possa poi assemblare i bundle così come si è già generato l'abbonamento di dicembre per tutti tra il 3 e il 5 di novembre si sono generati tutti i kit la terza collezione spero più o meno insieme ai kit di dicembre vale a dire dal 15-20 in quella settimana lì tipografia permettendo come ormai anche perché vi dico qual è il piano di battaglia che domani mi dovranno fare le prove di stampa di novembre e dicembre tanto vi faccio vedere questi sono i puffi stickers di novembre e in settimana devono finirmi tutte le carte dei kit di questi due mesi e fare le prove di stampa della collezione di dicembre quindi quella dopo questa settimana qui mi danno i kit e quella dopo mi stampano la collezione quindi secondo me in realtà ce la faremo questo lunedì qui è l'8 il 15 verosimilmente per il 21 potremmo avere no no non partono in settimana saranno pronti dalla settimana prossima almeno sempre sempre da metà mese ragazze prima non l'ho fatto un paio di volte anticipare non lo farò più perché poi diventa difficile spiegare quando non si può anticipare i day cut della prossima settimana i day cut della prossima settimana cosa intendi aspetta mi sono persa forse qualche messaggio prima credo che tu li abbia tutte e due rosalba perché abbiamo poi tolto le spese a tutti e quello dell'ordine del 12 ottobre è il kit di novembre e l'ordine che si è generato in più giorni perché erano veramente tanti gli abbonamenti dal 3 al 5 è il kit di dicembre rivedere novembre si può pagare con paypal con qualsiasi carta di credito è l'unico metodo di pagamento che abbiamo che abbiamo che abbiamo lasciato questi sono gli enamel scusate leggo ogni tanto perdo qualcosa ma è difficile muoversi e fare le cose leggeri commenti nel frattempo poi non tutti mi appaiono sempre allora enamel dot vediamo le carte patterned ve le faccio vedere ve lo faccio vedere velocemente così nessuno si annoia e poi vado a finire di lavorare voilà i day cut della collezione successiva non ve li apro per scaramanzia miseria li ho messi qui dove sono finiti allora ve li ho fatti vedere quindi dove siete finiti eccoli qua non li apro per per scaramanzia ve li apro poi giuro adesso per scaramanzia lasciatemi lasciatemi di tenere chiusi che qua va sempre tutto storto quale craft è adatto per le scatoline il suo craft va benissimo che è da 300 grammi lo fu stellate tranquillamente con la big shot se no potete usare per le scatoline vanno bene tutti i cartoncini della taylor che hanno una grammatura molto alta il marshmallow il licorice tutti i buzz i levy weight la mia carta che è un 260 grammi e va benissimo voilà no quelli di novembre non si possono ancora acquistare li mettiamo sempre acquistabili singolarmente appena abbiamo finito di smistare i kit di modo che no Satispay come pagamento non lo abbiamo non è in questo momento in programma di essere inserito continuiamo ad avere paypal portate pazienza ma la quadratura dei pagamenti chi di voi lavora magari in contabilità può capire che cosa che cosa dico è veramente un lavoro infame e ho bisogno che sia quanto più agevole possibile paypal è l'unico metodo che salvaguardia un po' tutti salvaguardia a voi in caso di problemi ma salvaguardia anche me purtroppo lo scorso anno ci sono stati una serie di problemi e insomma quest'anno abbiamo preso la decisione drastica ma vi dirò consciamente felicemente di mantenere unicamente paypal questi fogli di tesserina a me piacciono tanto poi queste nonostante è un delirio è un disastro è un disastro poste pay è dal punto di vista contabile per quanto mi rendo conto che sia molto pratico per qualcuno è veramente il male dal punto di vista delle tracciature contabili ed è un qualcosa che ho appreso in realtà con concretezza solo quest'anno e se penso a quello che mi è costato sistemare la quadratura di quei conti vabbè allora Federica messo lì e non lo trovavo più cioè boh vabbè nonostante ci sia scritto monofacciali queste sono bifacciali adesso poi farò ristampare la copertina non ho cuore di dirgli allora le carte bifacciali sono fatte in questo modo qua sì basta associare la poste pay a paypal e siamo a posto sì è proprio il problema del pagamento con la ricarica che è complicato perché difficilmente appare chi ha fatto il pagamento quindi io vi lascio immaginare quando si pagano i kit che gioia sia no niente bonifici mi dispiace ma anche il bonifico è un problema c'è chi sbaglia a imputare le cifre c'è chi sbaglia a fare i conti degli ordini da pagare il bonifico è un altro male paypal è l'unico modo carta di credito paypal è l'unico modo che garantisce a tutti ma lo dico anche per voi perché non potrò mai dirvi che non ho ricevuto un pagamento con paypal perché è tracciato cioè con un numero di transazione lo recuperiamo in un momento e sappiamo perfettamente a quale ordine appartiene quando è stato fatto da chi è stato fatto e quando è stato incassato portate pazienza con il numero di ordini che gestiamo non è veramente possibile considerare nessun altro tipo di pagamento per la struttura che abbiamo poi un domani magari avrò un ufficio contabile di quattro persone che potrò dedicare a questo tipo di lavoro per ora per ora essendo per ora essendo me myself e I purtroppo non ce la posso fare portate pazienza non odiatemi voilà ciao Tania vai al lavoro così tac questo è un po' tipo il crackling campfire devo provare poi devo usarlo a un servizio di assistenza super efficiente e non puoi perderti nessun tipo di tracciabilità nel senso che anche quando lo so che mi odiate ma anche quando mi chiedete se potete pagare più ordini insieme vi dico no è nell'ottica della tutela di tutti perché nel momento in cui si chiude un ordine con un pagamento fatto ordine per ordine è infallibile la tracciatura del tutto anche io ho tutte le carte il conto collegato a paypal ovviamente per il negozio facendo così tanti acquisti all'estero è l'unico modo per poter gestire tutto anche questo mi piace tanto come colore vabbè vi faccio rivedere velocemente anche le carte da rivestimento poi vado a cercare questi daycat che madre non trova vabbè fuori con le b sì anch'io ho il conto collegato su paypal quindi in realtà se non mi basta il plafond diciamo delle carte pesco da lì io mi sono sempre trovata bene io non ho avuto mai nessun problema per la gestione dei pagamenti dell'e-commerce è l'unica cosa è l'unica cosa che veramente si poteva fare senza diventare matti o senza correre rischi stupidi perché poi purtroppo noi siamo fortunati in realtà abbiamo delle clienti splendide ma ogni tanto tra le clienti splendide capitano anche le perle nere quelle che non vorresti trovare quindi vi assicuro è stata una scelta sofferta ma necessaria e queste sono le carte da rivestimento 285 delle spedizioni esatto io conto conto su quello e io starò da qualche parte su un divano con netflix sempre acceso a fare le collezioni con i miei due gatti che ne dite? sì ci sono tutta una serie di tutele ma lo dico veramente anche nei confronti del cliente a volte è capitato che il cliente mi dicesse di aver fatto un pagamento con poste pay e non pensandoci ha buttato la ricevuta ma non essendoci il nome se io quel pagamento non riesco a tracciarlo per me quel pagamento non c'è come dire allora ok state parlando di altro allora vi faccio rivedere anche brevemente gli abbellimenti i die cut i bottles che sono tutta colpa di Mariella ma io le sono grata di avermi fatto cadere in questo tunnel perché adesso li farò per tutte le collezioni in cui si riesce insomma adesso per San Valentino non li ho fatti fare perché San Valentino è un'altra festa un po' tipo Halloween che è molto molto veloce però i ganci in otto colori sono di metallo sì i gancetti tipo quelli per le borse sì moschettoni sì 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 dunque Namedot Buttons die cut i tre washini le paillettine e sfogliare i raccoglitori di My 12 Thales è bellissimo sfogliare i My 12 Thales perché è un tuffo nell'anno è sempre un tuffo al cuore secondo me no? questi sono i chipboard i puffy stickers l'ho già vista la terza di You sì sì allora devo dire che la prima parte è un po' lentina ma poi sì i bottoni sono sono degli abbellimenti semplicemente hanno dietro il tondino di spessorato e sono semplicemente degli abbellimenti anche io ce l'ho da tantissimo tempo Chiara sì mai avuto un problema in realtà mai più senza sì è talmente comodo non dover reinserire tutte le volte i dati della carta che se penso al numero di ordini che faccio dai fornitori tutti i giorni se dovessi reinserire i dati tutte le volte sarebbe veramente la morte nera questi sono oh qui c'è una paillette tac sì sì ci sono diversi progetti in programma con queste carte allora in realtà adesso partiranno per tutte le ragazze che ci aiutano lo manderò a Marica lo manderò a Mariella adesso vediamo se Angela ha tempo mi farebbe piacere anche se poi ci sono nuove collaborazioni che abbiamo che abbiamo interlacciato farò qualcosa io ovviamente in realtà oggi se non avessi dovuto cercare disperatamente questa scatola di Daycut avrei fatto un set di card però vabbè lo farò magari uno di questi uno di questi giorni allora vi faccio vedere anche le carte speciali acetato vellum e altro acetato i decorative brads allora dunque Roberta teoricamente sì ultimamente però praticamente tutte le ditte che fanno i decorative brads continuano a chiamarli brads ma non sono fermacampioni nel senso che non hanno più le alette dietro quindi in realtà è un po' come se fossero dei bottoncini decorati non sono più non hanno più le alette quindi se ti serve qualcosa che abbia le alette i decorative brads che ci sono adesso sul mercato quasi nessuno ce li ha non so come mai abbiano fatto questa scelta sicuramente ha un costo diverso e sono lavorazioni diverse quelle che vengono fatte per avere le alette dietro e no però mi ricordo che un po' di tempo fa la prima volta che mi è capitata questa cosa prendo in mano un pacchetto di decorative brads della simple story se non sbaglio apro un strings e faccio il foro tiro fuori l'abbellimento e l'abbellimento non ha le alette e quindi da lì ho scoperto che in realtà quasi tutti in realtà adesso non hanno più le alette da quello che vedo non chiedetemi perché perché lo ignoro però vabbè potevano essere chiusori originali sì sono proprio un po' concetti diversi anni e anni fa c'erano di prima marketing se non sbaglio c'erano un sacco di decorative brads che avevano anche questo bottoncino intorno ed erano carinissime non si trovano più facilmente anche devo dire tra i fornitori che ho se devo dirvi che non mi sembra di aver visto nessun tipo di proposta di questo tipo ecco allora dunque in supercorsa esatto col jewel in testa è vero non so come mai forse sono un po' passati di moda non lo so io se li avessi probabilmente i fermacampione con le alette troverei un modo carino per sfruttarli è anche vero che dietro devi sempre mattare con qualcos'altro perché sennò hai le alette che si vedono insomma boh non lo so non me lo chiedete allora questo è il parto della collezione del Natale che amo di più la seconda collezione di Natale di quest'anno è una collezione dai toni caldi polverosi a me piace sempre tanto questo tipo di palette questa palette di colori mi piace tantissimo è un po' il mio Natale a casa al caldo possibilmente caminetto acceso mi piacerebbe tanto avere un caminetto ma ancora non ce l'ho lo sogno quindi lo metto sulle carte i miei gatti o comunque gli animali i nostri pelosetti tv libro cibo quello che è è il Natale che mi piace godermi insomma in realtà da quando c'è il negozio il mio Natale di me e mia madre è diventato come dire l'obiettivo di riposo dell'anno ci riposiamo stiamo in pigiama tutto il giorno e mangiamo possibilmente qualcosa di pronto così non dobbiamo neanche faticare per quello e via di film di Natale ognuno ha il Natale che ama di più tutti noi abbiamo un po' delle tradizioni qualcosa che ci lega fortemente al ricordo di Natale per me ultimamente il Natale è quello sono i giorni in cui mi posso godere di più la casa il riposo i miei animaletti insomma e questo vuole essere un po' quel tipo di atmosfera la prossima sarà un pochino più natalosa con la neve insomma un pochino più classica forse spero che vi piaccia sul sito trovate tutto acquistabile singolarmente e il bundle il bundle contiene tutto quello che vi ho fatto vedere ed è scontato di circa il 15% 14-15% rispetto alla somma originale dei prodotti con i film di Natale già iniziano vabbè non è mai troppo presto per i film di Natale effettivamente sono sempre belli io adesso a dicembre mi concederò la maratona dei film di Harry Potter e quindi allora dicevo trovate tutto ordinabile singolarmente e trovate il bundle il bundle ne abbiamo caricato ne abbiamo caricato un centinaio quando andranno ad esaurimento o ne carico altro comunque sappiate che se li trovate su ordinazione se dovesse capitare di oggi non me ne accorgo sappiate che ci va solo qualche giorno per semplicemente riassemblarli la big shot elettrica che uso io credo Erika credo che si possa ancora ordinare io se vuoi controllo te lo sconsiglierei nel senso che se effettivamente siamo così vicini è una spesa che non vale non vale la spesa perché come niente costa 220 euro non lo so se volete io la faccio arrivare ovviamente non c'è nessun problema se volete un consiglio vi direi abbiamo fatto 30 ragazzi facciamo 31 e resistiamo con le canzoni certo anche io anche a me piace un sacco ma adesso è Michael Bublé allora mi sarebbe piaciuto oggi fare una serie di card ma ripeto sono arrivata un po' lungo ho preferito fare gli ordini che c'erano stamattina in sospeso di modo da partire domani con gli ordini della nuova collezione di rendere un po' più agevoli il lavoro sia per me che per Elisa domani se le carte ecco vi dico ancora questo se le carte dovessero andare ad esaurimento ne abbiamo abbastanza però vuoi mai che dovessero andare a finire le facciamo ristampare i tempi non dovrebbero essere particolarmente lunghi quindi non vi preoccupate abbellimenti paillette ne abbiamo in abbondanza quindi su quello sicuramente non andremo ad esaurimento prima di Natale nulla io per ora vi ringrazio sempre dell'entusiasmo con cui accogliete le nostre le nostre novità vi ringrazio per la pazienza perché ultimamente un imprevisto dietro l'altro ma vi ripeto mi hanno venduto una confezione di vita monopoli difettosa dove ci sono solo le carte degli imprevisti non c'è nessun bonus nessuno è vincito solo imprevisti e quindi vi ringrazio per la pazienza spero che questa collezione vi piaccia spero di vedere tanti i vostri lavori fatti con questa collezione fatemi sapere e di oggi adesso mi fermo qui magari ritorno più avanti per postare qualcosa rispetto all'aggiornamento della collezione se riesco stasera e mi dedico ai kit del prossimo anno e a cercare i die cut che madre non trova ma adesso li troviamo fanciulle e fanciulli buona giornata grazie a tutti buono shopping trovate tutto sul sito ci vediamo ci sentiamo domani grazie ciao ciao